In questo allenamento di livello intermedio facciamo un circuito total body senza pause. L'allenamento dura circa 18 minuti. Buon allenamento! Iniziamo con un breve riscaldamento di 2 minuti. A termine passiamo ad un circuito composto da due blocchi aerobici total body. Dai ritmo al movimento e non temporeggiare su un singolo piede. 5, 4, 3, 2, 1, incrocio braccia, palmi rivolti verso il basso. Inspira quando apri ed espira quando chiudi. Tieni le braccia tese durante il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Gambe divaricate e passo incrociato all'indietro. Porta le braccia in avanti per non perdere l'equilibrio. Coordina in movimento braccia-gambe. Respira durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, mano verso il piede opposto e mantieni tieso il braccio dietro. Se non arrivi al piede, ferma prima il movimento. Inspira quando sali ed espira quando scendi. 5, 4, 3, 2, 1, ciconduzione braccia in avanti. La mano sfiora la gamba e si distende quando passa dietro il corpo. Coordina bene il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, gambe leggermente divaricate e scendi fino al ginocchio. Tieni gli addominali contratti durante il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, ciconduzione braccia indietro. Crea dei cerchi con le braccia. Movimento lento e armonico. La mano sfiora la gamba. 5, 4, 3, 2, 1, spostati a destra. Contrai addome e glutei. Spingi sulla gamba destra per tornare in posizione. 5, 4, 3, 2, 1, palmi verso il basso. Inspira quando apri ed espira quando chiudi. Braccia tese durante il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, spingi sulla gamba. Ora verso sinistra. Il piede sinistro è a 45 gradi. Contrai addome e glutei. Fuori l'aria e ritorna in posizione. 5, 4, 3, 2, 1, calciata saltellata. Porti i talloni verso i glutei. Tieni un ritmo costante. 5, 4, 3, 2, 1, posizione di mezzo squat e spingi sulla gamba destra. Quando scendi mantieni il bacino arretrato. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Incrocio braccia-gambe. Mano verso il piede opposto e mantieni teso il braccio dietro. Inspira quando sali ed espira quando scendi. 5, 4, 3, 2, 1, ora spingi sulla gamba sinistra. Quando scendi, talloni ben appoggiati a terra. 5, 4, 3, 2, 1, 20 secondi di corsa sul posto. Puoi utilizzare questo esercizio a ritmo lento per recuperare energie o a ritmo sostenuto per intensificare l'allenamento. 5, 4, 3, 2, 1, calciata sul posto. Porti il tallone verso i glutei dello stesso lato. In questo esercizio non devi saltare. 5, 4, 3, 2, 1, via! Passo incrociato all'indietro. Gamba dietro tesa e gamba davanti piegata. 5, 4, 3, 2, 1, alza lateralmente la gamba destra. Il prossimo esercizio è più complesso. Memorizzalo. Lo vedi sulla parte sinistra dello schermo. 5, 4, 3, 2, 1, gambe divaricate. Destra, sinistra, giù in plank e ritorno in posizione. Elastica nel movimento e respira. 5, 4, 3, 2, 1, mani sui fianchi e apri lateralmente la gamba sinistra. Osserva al video il prossimo esercizio per memorizzarlo. 5, 4, 3, 2, 1, mano ginocchio jumping jack, mano ginocchio squat. Impara la sequenza, prendi il ritmo e segui il video. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Gamba destra in avanti. Cerca di toccare la punta del piede con la mano. Coordina bene il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, gambe divaricate. Scendi lateralmente oltre il ginocchio. Tieni gli addominali contratti durante il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, gambe divaricate. Preparati per il prossimo esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Salta lateralmente. Piccolo saltello e mani a terra. Mantieni le ginocchia nello spazio creato dalle braccia. 5, 4, 3, 2, 1, corriamo 40 secondi. Siamo a metà allenamento. Hai completato la prima sessione del circuito. Dopo la corsa sul posto, ripetiamo la sequenza appena terminata. Se sei stanca, utilizza questo esercizio per recuperare le energie, rallentando il ritmo. Ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, riniziamo. 20 secondi di circonduzione braccia in avanti. Coordina il movimento con la respirazione. 5, 4, 3, 2, 1, discesa laterale lunga. Vai oltre il ginocchio. Tieni gli addominali contratti durante il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, ci conduzioni a braccio indietro. Utilizza questo esercizio per recuperare energia. 5, 4, 3, 2, 1, via. Verso a destra. Braccio sopra la testa e piede destro a 45 gradi. Talloni ben appoggiati a terra. 5, 4, 3, 2, 1, palmi verso il basso. Inspira quando apri ed espira quando chiudi. Tieni le braccia tese durante il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, vai a sinistra. Contrai addome e glutei. Spingi sulla gamba sinistra per tornare in posizione. 5, 4, 3, 2, 1, saltella spingendo i talloni verso l'alto. Mantieni il corpo dritto e non avanzare. 5, 4, 3, 2, 1, posizione di mezzo squat. Carica sulla gamba destra e spingi. Quando scendi in mezzo squat, il ginocchio non supera la punta del piede. 5, 4, 3, 2, 1, gambe divaricate e mano al piede opposto. Se non arrivi, porta la mano al ginocchio o alla tibia. 5, 4, 3, 2, 1, posizione di mezzo squat. Carica sulla gamba sinistra e spingi. Mantieni l'equilibrio e non sbilanciarti in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, corri sul posto. 20 secondi. Se sei stanca, rallenti il ritmo. Scegli tu l'intensità della corsa. 5, 4, 3, 2, 1, atterni in movimento con la gamba destra e la gamba sinistra. Avvicini il più possibile i talloni verso i glutei. 5, 4, 3, 2, 1, via. Gamba dietro tesa e gamba davanti piegata. Corpo leggermente inclinato in avanti. Ancora 3 minuti al termine. 5, 4, 3, 2, 1, mani sui fianchi e apri la gamba destra. Guarda video e prossimo esercizio combinato. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Cambio. Gambe divaricate. Destra, sinistra e giù in plank. Concentrati sull'esecuzione, non sulla velocità. 5, 4, 3, 2, 1, mani sui fianchi e apri la gamba sinistra. Mantieni l'equilibrio sulla gamba d'appoggio. Osserva video e prossimo esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, mano ginocchio, jumping jack, mano ginocchio e squat. Non andare veloce. Concentrati sull'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, slancio in avanti, gamba destra. Cerca di toccare la punta del piede con la mano. 5, 4, 3, 2, 1, gambe ad ampezza spalle e scendi oltre il ginocchio. Tieni gli addominali contratti durante il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Ora slancio alla sinistra. Non tenere la gamba tesa e chiudi il corpo verso la gamba. 5, 4, 3, 2, 1, l'allenamento è quasi terminato. Braccia in linea con le spalle e fai delle piccole rotazioni. 3, 2, 1, saltello laterale e mani a terra. Mantieni le ginocchia strette quando scendi. 5, 4, 3, 2, 1, ultimo esercizio. Corri 40 secondi. Dai tutta l'energia rimasta. Cordini in movimento braccia-gambe. Ancora 20 secondi. Ultimi 15. Aumenta il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1, il tuo allenamento è terminato. L'energia rimasta. 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 Grazie a tutti.